Ed Workup Rebels E-Race è uno sci altamente performante per chi vuole cimentarsi sia in lunghi curvoni che nel corto raggio, con un raggio di 14,8 metri e 68 mm al centro nella lunghezza di 170 cm. Costruzione con sistema elettronico di riduzione delle vibrazioni EMC che si abbina alla costruzione con nucleo in legno ampliato con grafene e alla piastra Race Play Tevo 14. Gli sci hanno un profilo camber. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.